Ok, di nuovo connessi. Oggi è il gran giorno. Come al solito, Hassan entrerà alle 16.30 in punto. Ha un entourage di sei persone. Due stanno sul veicolo, quattro entrano nell'hotel. Uno nella lobby, uno giù vicino all'ascensore. Uno alla porta e uno in camera. Lo colpirete lì. Avete quattro minuti per andarvene in macchina. Domande? Hassan ci starà nel baule? Più o meno. In attesa. Muoviti Preacher. Mother, carica l'immacchina e parti. Uno alla tua rotta. L'hai già avuto, Dany? Sono nel garage. Sì. Sicurezza in ghiaccio. Ok. Richard vai al punto di stazione primaria o più in fretta che puoi. Dusty, ci sei lassù? Roger dovrà accedere a quel laptop in remoto. Ok, adesso mi collego. Analizzeremo dopo i dati, per ora recuperiamone il più possibile. Roger. Contatti, calendari, viaggi, tutto quello che riesci a trovare. Ok. 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 Ok, sì. Ok. 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 la sicurezza di un fan. Muoviti. Dusty, parmaci. Non riusciamo a seminare. Dusty, dove sei? Ci sono. Cerco un nuovo percorso. Fate isolati. Non serve il nome di una via. Ora. Alla riga road. Cerca di distanziarli. Dusty, ci sei. Sei connesso. Ok, siamo in Sattling. Evita tunnel ed edifici alti. Scherzi, vero? Fai quello che puoi. Locano la strada. Concevuto. Then we start it. Richard, qualcuno si sta avvicinando molto in fretta. E arriva un altro. Mother, quell'altro riscuota. È un grande successo di pubblico. Ok, ricevi. Ok, destra, destra. Vai a cambio, vai a cambio. Dusty, andiamo verso la Sheik Sayed. Così li seminiamo. Dusty, com'è il traffico? Ti invaderai nel traffico tra due chilometri. Libera di prima e ci dirò che percorso fare. Non fermarti. Vai, vai! Cazzo, ti hai rovinato la giornata. Dicevuto. Richard, stai a destra. Ok, lo vedo. 200 metri a destra. Richard, via di lì. Fai attenzione, Mother. Hai compagnia. Troppa sicurezza per un marchio. Non metto i tasti. Non ti preoccupare. Roger, Richard, accosta. Roger, Richard, accosta. Ecco lì. Aspetta. Aspetta. Che fanno? Ok, gli uomini di Asana sigillano l'aria. Udai, alberi, come riparo? Sta a tempo. Andiamo, forza! Andiamo, forza! Fermo, fermo! Fermo, fermo! Ok, ok. Non ci vedono. Ci sono gli uomini di Asana che avanti rallenta. Dicevuto. Libero, vai. Andiamo. A tutto gas. Fermo, fermo. Occhio, veicolo a destra. Ci avuto. Può dare forza messa come riparo. Lascialo passare. Guidi alla grande, Richard. Non ci hanno visto. Ok, via libera nel quartiere. Va dritto. Connessione persa. Torna alla Sheikh Zayed. La connessione cerca di uscire dall'altro lato. ricevuto. Ricevuto, destra. A destra. Sfrutta il cantiere. Ottimo, hai seccato. Supera quel camion. Seminati a quanto vale a quanto. Dusty, ci sei? Roger, ci sei. Collegamento ristabilito. Devi cambiare auto. Sei vicino al parcheggio. Lo trovi sul navigatore. Roger, Pritcher, va al parcheggio. 500 metri a sinistra. Dopo aver cambiato auto, mantieni un profilo basso e avrai via libera. Rallenta. L'ingresso è sulla sinistra. Veicolo secondario al primo piano. Fai in fretta, esci di corsa e raggiungi il punto di attrazione. Sfrutta. Abbiamo il veicolo secondario. Basta. Fate in fretta. Liberiamoci di questo affare e prendiamo a salve. e prendiamo a salve. Alla prossima. Viste. Viste. Dritto! 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 Qui, a destra! Dritto! Dritto! Torniamo giù adesso! Roger Mi seguo, non ti fermare Attenti Dietro di te Ti vedo, devi andare a sinistra Ottima guida P Dusty, facci uscire dalla città Il punto di estrazione primario è compromesso Andiamo al secondario Roger D'occhio, vedo Sada Sì Atenzione, arriva Libero a sinistra, avanti Non lo vedo, a giro, l'oblige Quella tempesta di sabbia potrà venderti d'aiuto A chi sapevo che l'avresti vinto Hai sentito, l'oblige? Vai nella tempesta Dovrai seminarlo Andato, ti meriti un 10 Non si vede niente qua Roger Vediamo cosa sta succedendo, ragazzi Non si vede un cazzo Forse ce l'abbiamo fatta Dusty, il veicolo inseguitore? No, sono secco con una casa Forse c'è anche Sada, lì Forse è quello che ci sta vinto Occhio, l'incidente A sinistra A sinistra Credo sia andato Ottima prima, Bridger Roger, via libera Andate a punta di estrazione Forse Trasferimento Ok, Mother La vostra auto è messa male E voi? Sì, stiamo bene Chissà che bel viaggio Si è fatto assai Mother, sto ricevendo un po' Sì, stiamo bene Alla le fai del-hayato Alla ora Fa come Che gira Niente Funtero Dov'e Ero M' liquida Sempre Eh Ma 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 E' tanto me shorti!